Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi andiamo a vedere questo prodotto qua Di cosa si tratta? Di una lampada da scrivania bianca Vi dico già subito il prezzo perché voglio partire Costa intorno ai 28€ che dici Vediamo cosa fa 28€ Ma in questi giorni c'è una promo E la potete trovare Codice sconto col coupon da attivare direttamente sul sito di Amazon Link in descrizione per l'acquisto come sempre ve lo ricordo Invece di 28€ l'ha trovato intorno ai 15€ 15,50€ In dotazione quindi a quel prezzo Pensateci che non è male Non è smart ma è tech Quindi niente dispositivi per la smart home Niente wifi, niente bluetooth Semplice, lampada da scrivania bianca Ci stanno altri colori? No, c'è solo bianca Cavo 120 cm, USB nella parte tipo C dall'altra Dice a che serve per caricare il cellulare Sì, anche se volete usarlo per caricare il cellulare Perché no? Funziona, è un cavo E per collegarlo alla lampada Di tipo A Al caricatore, al caricabatterie Vi serve un classicissimo caricatore da 5V 1A È più che sufficiente Consuma 7W Classe energetica G Vi dice Vi dico che è regolabile 5 tonalità di luce Bianco caldo e bianco freddo Regolabile anche l'intensità luminosa Non flickera Non ghostig Non glare Perfetta Anche per fare le riprese col telefono Non dà quel fastidio Andiamola a spacchettare Voilà Qua sopra Qua sotto Perfetto Allora La base Un pochetto fa scivolare Non è molto pesante Un po' leggera Però comunque le angolazioni ce le ha tutte Perfetto per leggere Perfetto per studiare Perfetto per videogiocare In vari ampi ambiti È da scrivania Da comodino no Dai oddio potete pure farlo Ma da comodino no Materiali Comunque tutta plastica Non ci sono i gommini antiscivolo Ma tutta una specie di spugna Qui sotto c'è appunto La marca Il modello E le caratteristiche tecniche Di quanto consuma in watt Sostanzialmente ci sono tre tasti Memoria Tensione spegnimento E il tasto Per la luce Per regolare l'intensità Della luce Qui tipo C Non vi resta che collegarlo E dopodiché Accenderlo È soft touch Quindi non dovete neanche fare Troppa pressione Quindi accendi Spegni Qui si vedono comunque i led Qui toccando E tenendo premuto Il tasto del led Il simbolo della lampadina Regolate la luminosità M Potete regolare Insomma La tonalità di bianco caldo Effettivamente Così si vede che Soltanto i led centrali E dopo vi faccio vedere Come è fatto qua Modalità Diciamo solo calda Mista Solo fredda Mista Ancora mista Quindi se volete Insomma che consuma Tanto Ecco Questo è il massimo Della luce Che può fare Vi faccio vedere Come si presentano I led Magari tenendolo Alla luminosità Minima Vedete Soltanto centrali Tutti Soltanto Bianca fredda Queste sono le 5 tipologie Per fare Appunto tutte le tonalità Di bianco Mi stavate chiedendo Lo so Lo sentivo da là Quanto è la grazia Grandezza Le dimensioni Dunque 27 centimetri E mezzo Per 17 centimetri Per 11 centimetri L'altezza Tenendola così È di 31 centimetri Le tonalità di bianco Appunto Come vi dicevo Prima Passano dai 3000 gradi Ai 6000 gradi Kelvin Niente ragazzi Spegniamo Anche questo prodottino qua Non è davvero Niente male Posso consigliarlo Sì Magari per una scrivania Da bambini Oppure per un regalo Da fare Perché no Per i ragazzi Va più che bene Per una seconda postazione Anch'esso Ve lo posso consigliare Poi in questo momento Si trova intorno ai 15 euro Buon prodotto Considerando che vi danno anche Un cavo USB Di tipo C Da 1 metro e 20 In dotazione anche il manuale Che come vi dicevo prima Multilingua Vi dice praticamente tutto ciò Che vi ho detto Io Poc'anzi E niente ragazzi Per questo video Per questo video è tutto Ve lo posso consigliare Sì Voto 7 Due pecche Non tanto Per l'antiscivolo Perché ok Sì Considerando che è leggera Un pochetto Non è molto molto stabile Quindi si può facilmente spostare Non rimane ferma Al punto di dove la posizionate Voi la lampada Considerate anche questa cosa E i materiali che Non dico cheap Ma sono comunque Plasticosi Per questo il mio voto Alla fine è un 7 Ragazzi per questo video è tutto Vi ricordo di lasciare un like Se vi è piaciuto Un dislike se non vi è piaciuto Vi ricordo i social Facebook Instagram Telegram Insomma vi trovate Da per tutto Guardate il link in descrizione Per andare a vedere Sia questo prodotto E prenderlo se volete Su Amazon Attenzione al codice sconto E guardate anche i link Che vi portano direttamente Ai miei social Su Telegram Ricordate che Ogni giorno Quasi ogni giorno Pubblico sconti e offerte Riguardo il mondo De la tecnologia E non solo Mi raccomando Dateci un'occhiata Se volete E unirvi anche lì Qui Sottoscritto È tutto Io vi saluto Vi mando un abbraccio Noi ci rivediamo Al prossimo video Ciao Ciao